Buongiorno a tutti i giorni, fatta, non ti sentire, un grande, un grande! Bravi! E' un'altra cosa, non andate via! Vedete qua, non andate via! Andate, lo soppiamo agli altri, che non dovrebbero essere gestanti, bravi ragazzi! Se la fate dei miei parole o no? Bravissimi! E' stato? Guardatevi un po' e poi io un po' e poi! Vedete il tempo dei vincitori? 2,521, bravissimi, bravissimi! Bravissimi! Vincitori su fuori, al secondo, seconda posizione! Eccoli qua, amici! Vincitori su fuori, bravi ragazzi! Vincitori su fuori, vincitori! Vincitori su fuori, vincitori su fuori! Vincitori su fuori, vincitori su fuori! Come è andata? Scusate, arrivano lì! Arriva la terza coppia, la coppia numero 192! E' così arrivano, 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 la coppia numero... Entonces,controli su fuori, la coppia numero 192! Come è andato? Tu sei? Com'è? Ma bene, andiamo sempre tranquilli, sapevamo che era lunga e noi puntavamo tanto sulla discesa. Infatti siamo riusciti a prendere i secondi, che in quel momento erano Minoggio e Volcone, in cima. Dopo in discesa siamo passati in testa, abbiamo preso subito i primi che faticavano un po' in discesa. Verso l'Alpea Piazza sono caduto io, mi è cominciato a venire un po' di crampi, ho sofferto tanto. Infatti quando si arrivava giù al ponte sotto Intragna ci hanno ripreso il Volcone e il Minoggio. Dopo abbiamo distrato i denti e abbiamo fatto l'allungo da Cambiasca arrivare qua, abbiamo allungato. L'allungo ce lo racconti il tuo compagno? Niente a raccontarlo, non ci credevo più neanche io a Cambiasca. Poi saranno stati cotti anche gli altri e siamo riusciti a cambiare passo. L'abbiamo mantenuto fino a 4 con un po' di crampi ma è andata bene. Sentite, dindici un po', è la prima volta che la fate, che è piaciuta? No, bella bella, ho pregato bene il tempo. Brava, non è l'allungo, è successivo. Questo secco qua a noi non ci piace tanto. Prima o poi ce la farai. E' l'occasione perché sei un atleta forte, ti facciamo arrivare il secondo, perché non vinci. Quindi l'anno prossimo ti vogliamo rivedere. Eccoli qua, bravissimi, bravissimi. Parti, classificati, bravi. Dappenenti, Ramoni, più. Bravi ragazzi, tutto bene? Dopo vi aspetto qua per sentire le due impressioni, date riposarvi. Alessandro, eccoli qua, 15 classificati, bravi ragazzi. Bravissimi, bravissimi. Andate a ripeterni. Eccoli qua, un bel applauso, bravissimi, bravissimi. Suntura lo scalino, bravi. Arriva la coppia numero 116. Caretti, Luca e Fantogli Andrea. Eccoli qua, dai Luca, dai Andrea, bravi. Eccoli qua. Suntura lo scalino. Ciao, ciao. Vieni qua, vieni qua. Attenzione. C'ho la mia vista. Frizzio, Mauro e Grittman. Gino. Un grandissimo applauso. Eccoli qua. I fratelli volanti di Aurani. A Mauro e a Manuela. Eccoli qua. Forza, bravissimi. Bravo, Mauro e a Manuela. Eccoli qua. Bravo. Bravo. Vieni, vieni, vieni. Ricordiamo, eccola qua, Manuela, campionessa del mondo di corso in montagna, che ogni anno ci onora con la sua presenza. Quando vi siete riportati, passate di qua e dici due parole.